Ed eccoci qui ragazzi e ragazze in compagnia del vostro Diablotex per continuare su Fate Samurai Remnant in collaborazione con Plion Italia. Come sempre ringrazio tutto lo staff di Plion Italia per avermi concesso questa bellissima collaborazione su un titolo che aspettavo veramente da molto tempo. Quindi grazie ancora di cuore a tutto il team di Plion Italia. Ringrazio Alessandra di Plion Italia per avermi gentilmente inviato un codice di Fate Samurai Remnant in versione PlayStation 5. Ringrazio ovviamente anche Koei Tecmo Games per questi titoli stupendi che ci portano da far giocare e da condividere con tutti voi. Ringrazio tutti gli iscritti e le iscritte che mi seguono. Vi chiedo solo una gentilezza magari di lasciare un like, un commento, condividere il gameplay e se vi farà piacere iscrivervi sul mio canale YouTube. Detto questo adesso torneremo in missione perché credo che sia la voce. Però vediamo un attimino se magari se riposo magari recupero un po' anche le forze. Chi lo sa? Secondo me sì sarebbe giusta come cosa. Vediamo un po'. A posto, bellissimo. Chissà i prossimi Servant come saranno. Allora qui cosa dobbiamo fare adesso? Ah ok. Quindi? Ci sarà ancora qualcosa da fare qui insomma. Vediamo un po'. Cosa succede ragazzi? Cosa succede? Cosa succede? Grazie a tutti ...dona? ...dona. ...dona. Se vuoi si è un attimo, la crema di un'imprete che la crema di una crema che si può vedere la crema di una crema. Noi non sono mai buona, ma non è la crema di un'imprete di uno del genere, ma non è possibile che si vede a crema di un'imprete. Ma se si resta il rischio, non può essere un problema che non si sapeva di più di più di più. Non si vuole. Se si riuscita il rischio del chimio, mi piace molto per il rischio della mondia. Pensi che i luideri e i lancersi hanno sottotitoli di essere un bel rischio di più... ...che ci sono persone che hanno ottenuto il rischio di più di più. Grazie a tutti Grazie a tutti Comunque ragazzi Lasciatemelo dire Questo titolo Più si va avanti E più sorprende Cioè si aggiungono cose Su cose, bellissimo Ah vediamo un po' qui ora cosa abbiamo da fare Ma dai Ma serio? Stiamo schi... Vediamo un po' Allora qui non posso fare nulla E qui? Vediamo un pochettino Bello Ma ho fatto bene? Speriamo ragazzi Non sono sicuro ma... Ecco forse ho sbagliato un po' qui eh Ah Fallimento Allora... Riproviamo un attimino Perché sinceramente non mi scende la situazione Devo essere sincero Vabbè poi magari sbaglio di nuovo E non è che... Però voglio riprovare un attimino Dai Ah ok Devo prendere dentro il cerchio blu Ah ok Ho sbagliato di poco Dai Eh dai Insomma dai Così va bene ragazzi Su Adesso ho capito come fare bene Oh Allora Mentre qui Ah beh qui non mi interessa granché comunque A parte le immagini Molto molto belle Disegnate Ah qui cambia anche i costumi Bello E adesso per continuare la missione dove si va? Dove si va ragazzi? Dove andiamo? Ho voglia di combattere Ah 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 Ho voglia di combattere Ok dobbiamo parlare un po' qui Via Ok abbiamo completato qui anche Bella la luna Una bella luna ragazzi Eh sì Stupenda Stupenda No So Iori Ma Ma Si Dovah Sino Buke Ski ni Muga Skenoshin Skenoshin A It It Che 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 Facciamo un'ottima, i a loro argomento... Ma cosa vuoi, vuoi parlare con un'ottima, non ci vuoi. Trae qualcosa di ohio, ma... E' questo? Cosa vuoi? Se non ti ha chiesto, se cosa vuoi è una cose che era suiollari... E' vero No, ma che conosciuta, ma se conosciuta il ông! È quello che ha detto, è il nome del reto di una chiamata del prezegno. No, non è vero. Perché non è vero, ma non è vero. Il prezegno della prezegno della prezegno, ha visto che il prezegno del prezegno dei prezegno di prezegno di prezegno di prezegno per la chiamata. Che cosa? Ah, l'argomento ha fatto una storia, ma anche quello che ha fatto. Ma quando ho chiesto a me, quando ho chiesto a me, Gio, c'è anche un po' di solito. Ma che c'è una storia e una storia? Non c'è una storia di questo. Non è vero, non è vero, non è vero. Non è vero, non è vero, non è vero, non è vero. Non è vero, non è vero, non è vero. Non è vero, non è vero. Non è vero, non è vero. 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 Forse bisogna espandere in questo modo, per forza. Credo. Vediamo un po'. Non è vero. Ok. Ok. Non è vero, non è vero. Era abbordato, non è vero. Comunque è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero. Pazzesco, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero. Vediamo un po'. Vediamo un po'. non è vero, non è vero. non è vero, non è vero. non è vero, non è vero. è vero, non è vero. non è vero. non è vero. vediamo. Vediamo qui ora cosa succederà, ragazzi. Vediamo un attimino. Perché qualcosa bisogna fare qui, eh. Qualcosa bisogna fare qui. Ed eccoci qui, infatti. La strada corretta. È giusta, ragazzi. E beh. Ok. Vediamo la mappa qui. Una mappa abbastanza decente. Sì. Tutto sommato decente, ragazzi. Sì. È un'altra mappa che, non è vero, non è vero. È vero. Non è vero. non so, non so, non so, non so. Ma... cosa? Non so, non so. Non so, non so, non so. non so, Ok, adesso. Penso di qui, perché lì è chiusa la strada, quindi, ok. Datemi tempo di raccogliere qui Qualche materiale perché giustamente Non ho soldi per acquistare Mi offri qualcosa non so eh Se mi offri qualcosina io sono contento Quindi Riempiremo la barra qui eh Ah no ok Dove si va? Eh vediamo dove si va Ah andiamo qui Ma guardate un po' dove bisognava andare Ma guardate un po' Ah ok via Si combatte qui ragazzi E beh Siamo nati per combattere no? Che dite? Allora vediamo un po' con una spada sola come Con una sola katana qui in che modo Perché secondo me si colpisce veramente Molto molto più In maniera devastante Sì Dal mio punto di vista ragazzi eh Poi Vediamo un attimino Torniamo a due spadine qui via Ma gli altri servant quant'è che Me li farà usare Vediamo un attimino Ci vorrà un po' dite eh Penso anch'io Vediamo un po' Ah dobbiamo arrivare fin di giù Quindi abbiamo Abbiamo un girettino da fare qui eh Vediamo un po' Ah no 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 scusate No non è qui Eeeh Dove possiamo passare? No qui è lunga la strada però Un attimino Ah ok no non è lunga ragazzi Basta passare qui Non ho visto già il passaggio Quindi Tutto sotto controllo Al momento ragazzi Al momento è tutto sotto controllo Poi vediamo il resto Ah ah Non mettetemi fretta Faremo tutto bello con calma Ma il gioco è bellissimo Quindi Lo porterò avanti Fino alla fine Perché veramente Sto amando questo titolo ragazzi Voi non ci credete ma E' pazzesco Pazzesco come titolo Ok 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 Uh la la che bello Si combatti ancora Però qui facciamo una cosa ragazzi Qui eh Mettiamola in questo modo Che forse è meglio Mettiamola in questo modo Via Andiamo Andiamo Non è che ho fatto un cranché di da Un cranché Non ho fatto molto danno ragazzi E purtroppo Non ho fatto un danno Molto Eccessivo Diciamo Vabbè dai Me ne posso comunque occupare Non mi preoccupate Non mi preoccupate Me ne occuperò Secondo me dobbiamo rompere Quel sigillo E poi le suoniamo più Prepotenti qui E infatti Vedete Adesso l'energia scenderà Molto molto di più E beh È giusto che sia così Comunque È giusto che sia così Deve essere così Che bello Che bello Allora andiamo qui Certo Andiamo qui Certamente Certamente Sono venuto apposta Per coccolarti Eh Sono venuto apposta Per coccolarti Bel gattino Ah mi ricarica anche Un po' di energia Roba di poco Ma sempre fa piacere Comunque Fa sempre piacere Qui ragazzi E adesso andiamo qui Non so cosa mi aspetta Ma io comunque vado Entriamo? Io un po' di timore Vi dico la verità Non lo nascondo Il servant Passa come vuole Passa Attraverso la porta Senza problemi Dove andiamo? Ah ah Io già so dove andiamo O almeno dove vado io Vado a coccolare Il gattino Eh eh Ragazzi Mettetelo in testa Che ogni volta Che vedo Un gattino Pur un cane Io vado Se non lo vedo Ok Ma se lo vedo Io sono lì Io sono lì Ragazzi Questo dovete saperlo Ma credo che oramai L'avete anche ben capito Ai 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 Adesso qui Cosa vuole questo Cosa vuole Cosa va trovando Non l'ho ben capito Ma comunque Va bene così Ma comunque Ah bisogna combattere Giusto Ed è giusto Che deve essere In questo modo E beh Ragazzi Qui combattiamo In grande stile In grandissimo stile Via Usiamo il servant Perché Giustamente È un po' più potente Quindi Ne approfitto E se posso approfittarne Per me va più che bene Non so per voi Ma per me va più che bene Ok Dai che è andato giù È andato al tappeto Ragazzi Non è andato al tappeto Ah Ed io che mi credevo Che Maremma 550 HP Va bene Proviamo così Comunque Sono resistenti Qui certi nemici E alcuni nemici Diciamo Diciamo che Si fanno ben rispettare Eh sì Alcuni si fanno rispettare Bisogna stare un po' attenti Eh Bisogna stare un po' attenti Questo Facilissimo Da buttare giù Via Facilissimo ragazzi E lui si nascondeva Giustamente E adesso Ah vanno in automatico Tranquillamente Via Qui è Qui è Quodano Cosa Oh Tu Che La La Le Che Voi sono Voi Lai Voi Le Voi 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 sono i soldati ... 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 Ah? ...Hideon? ... 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 Aspetta, ma che si stavano? Wait, l'abbiamo cercato questo pubblico? Eh? Non lo sai? Il mio amore che mi ha scoperto a Tujigiri. Tujigiri? Non mi piace, ma... ... se non mi racconta, ... non mi rincavi, ... non mi rincavi? Mmh Furu meca c'è l'oro immucia Rai d'acca Ero un rio no si vada da Ero un uc mucia no tali da te Mou o sara rio De結局 Dov'o ca no tudi giro no si vada Teこと de Cono話 ha o si maiになった Ha Nani o omo ta ga oka mi toきたら Cono ea siki no aruji ga ge主任 da to決めつけちまった 10 nino samurai oi chido ni ai te doれるような奴 a Non c'è nessuno di questo, ma non c'è nessuno di questo, ma non c'è nessuno di questo. E' un po' di questo. Sì, allora hai seguito di chi è quello del 小節? Sì, e quindi... Cosa? Hai ragazzo con la professoressa di un professore del 小節? Io... Ah, sì, ma lo so, ha fatto molto importante con la professoressa del 小節. Grazie a tutti 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 Vediamo a tutti Vediamo a tutti Grazie 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 a tutti A gagne an SF vie Grazie a tutti